Con un risultato al di sopra delle più rose aspettative, Gianluca Callipo ritorna a ricoprire il ruolo di primo cittadino di Pizzo, sbaragliando sia Antonio Borrello, che si ferma a meno della metà dei voti di Callipo, e soprattutto della candidata al Movimento 5 Stelle, che supera di poco l'8%. Un successo che lo stesso Callipo attribuisce alla squadra che ha saputo aggregare intorno alla sua persona, sia nei 5 anni appena trascorsi, sia durante questa campagna elettorale, che non gli ha risparmiato anche dei colpi bassi. Sì, un grande risultato, davvero al di là di quelle che erano anche le aspettative. Sapevamo di essere in vantaggio, sapevamo di aver lavorato bene, ma non aspettavamo un divario così netto, tanta fiducia da parte dei cittadini di Pizzo, che addirittura hanno dato più voti di quanti non ne avessimo preso già nel 2012, 5 anni fa, e quindi amministrare e alla fine di un'attività amministrativa essere riconfermati con 6 punti percentuali in più, e quindi col 61% è stata davvero una grande soddisfazione. Il merito va sicuramente alla bellissima squadra che mi ha affiancato, ma alle tantissime persone che hanno creduto in questo progetto, che lo hanno creato insieme a noi. Il progetto futuro è stato un progetto che ha creato tanta partecipazione, tanta condivisione, e quindi tanto entusiasmo e poi la soddisfazione appunto di aver premiato il lavoro di 5 anni, che ha avviato una rinascita della nostra città e che potremo proseguire nei prossimi 5. Che significato dare a questo risultato e soprattutto che responsabilità si sente di voler rappresentare? La responsabilità è tanta perché tante sono ancora le cose da fare nella nostra città, tante sono le aspettative che i cittadini ripongono in noi, e che ci sono state riconfermate con questa grande fiducia che ci viene data. E quindi è chiaro che da parte nostra il massimo impegno e la massima dedizione con le nostre capacità, con la nostra voglia di fare, con l'amore verso questa città, di provare a dare le migliori risposte ai bisogni dei nostri concittadini. Sempre con una squadra giovane? Con una squadra giovane fatta di tanti giovani, meno giovani, cercheremo di coinvolgere tutti, faremo di quel punto la città sei tu, del quale tanto abbiamo parlato anche in questa campagna elettorale, facendo gli incontri nei quartieri, incontrando i cittadini, e l'obiettivo è quello di rendere il cittadino che vuole essere attivo di questa comunità, di renderlo partecipe affinché le scelte dell'amministrazione, noi abbiamo chiaramente l'onore e onere di rappresentare tutti, ma che le scelte dell'amministrazione possano essere il più possibile condivise, e quindi che il cittadino sia partecipe di questo progetto. Questo è l'obiettivo principale che mi auguro potremo raggiungere nei prossimi anni.